quando i saluti a Rio del Chalet ah, lì vedete eh, vedete saluti da Rio mi dico, vabbè ma comunque mi mandano i saluti da tutte parti ah, eri tu, saluti da Rio poi noi avevamo detto, non è la live ma c'è il cittadino, non è la posta no, anche perché non tanto non tanto lo capisco lo so usare, c'è la gente non lo ricordo Davide, allora più o meno sì 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 Grazie a tutti.